Una profonda riflessione sulla figura di Aldo Moro, che è fuori dal nostro tempo, ma non deve essere troppo fuori e troppo lontano dal nostro sentimento politico. Lo ha affermato Marco Follini, ex leader nazionale dell'Udc, giunto a Corigliano Rossano, dove ha presentato il suo ultimo libro, Via Savoia, il labirinto di Aldo Moro. Sala grimita tante le domande poste all'autore. Serve una riflessione dedicata alla figura di Moro, perché Moro era il punto più alto della ricerca di novità politica e il punto più acuto delle contraddizioni che quella novità portava con sé. Una battuta sulla Calabria e sui rischi prossimi del federalismo differenziato. Alcuni dei progetti che girano sul federalismo differenziato, io temo che ci portino da un'altra parte, e quindi vale per la Calabria, come vale per tutto il mezzogiorno, la preoccupazione di non sconfinare. Follini, già segretario nazionale dei Giovani della Democrazia Cristiana e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha ricostruito la vicenda umana e politica del presidente della DC. Ha analizzato il percorso di Aldo Moro sin dagli inizi fino al tragico epilogo. Poi i rapporti tra Follini e la politica. Follini e la politica, che rapporto c'è oggi? C'è stato. Non più, non torna?